Domani a Cava dei Tirreni l'Artedale, il coinvolgimento di tutte le scuole cavisi che offriranno attraverso i loro studenti momenti di aggregazione e momenti di coinvolgimento in varie attività. Ma è particolarmente attento al forum dei giovani questa iniziativa, forum che nella città di Cava è dinamico, è attivo, è operativo, il presidente Emiliano Sergio non è in questo momento disponibile ma abbiamo un rappresentante del consiglio direttivo Benito Ventre che ci sottolinea la partecipazione all'Art Day da parte del forum di Cava. Dunque innanzitutto bisogna ricordare l'obiettivo del forum, l'obiettivo del forum è quello di monitorare e sorvegliare quelle che sono tutte le attività giovanili e ancora più importante poi accogliere queste persone e dargli degli spazi dove potersi esprimere. In questo caso l'Art Day è proprio l'esempio vivente di quello che il forum deve fare sul territorio come fa poi sul territorio gavese. I rappresentanti di tutti gli istituti di Cava ci hanno contattato per chiederci una mano nell'organizzazione dell'Art Day che è un qualcosa fatto per la prima volta tutte le scuole insieme che non è mai stato fatto tutti gli istituti superiore di Cava nello stesso giorno, nella stessa organizzazione. E quindi noi abbiamo aperto ben volentieri a braccia aperte la nostra sede con le nostre risorse sia umane che materiali. I ragazzi si vedranno impegnati in più di 20 esercitazioni nell'arco tutta la giornata, dalle 9.30 del mattino fino alle 8 di sera. Le esercitazioni che vanno dalla cucina per quanto riguarda gli istituti che si occupano di alberghiero, esercitazioni che vanno dall'astronomico, esercitazioni di lingue, di pittura, di fotografia. Quindi è una bella iniziativa che deve essere premiata e deve essere portata avanti e noi come forum ovviamente non potevamo non partecipare.